Il Softair è il rientro controllato dell'aria nell'ultima fase di confezionamento. Permette di far aderire delicatamente il sacchetto al prodotto confezionato. Il suo utilizzo è necessario per il confezionamento di prodotti delicati, ma che possono essere compressi in sottovuoto, o di pezzature con spigoli che potrebbero rompere il sacchetto con un rientro troppo violento, causando la perdita del vuoto. Grazie per la visione!